Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video inizieremo una nuova serie su GTA 5 ragazzi con Trevor in una serie che ci porterà ad essere dei contadini Esatto in GTA 5 adesso è possibile coltivare le terre e ottenere piante, piantagioni, dipende da che seme ci piantiamo sopra Ovviamente come un normalissimo campo nella vita reale ragazzi quindi ho deciso di scegliere Trevor come miglior personaggio che può fare questa cosa qua Che può prendere parte a quest'iniziativa e potremo scegliere che tipo di campi coltivare Questo significa che possiamo acquistare dei campi, possiamo acquistare dei semi e possiamo decidere cosa coltivare Potrebbe essere legale o illegale, dipenderà tutto da quello che vogliamo fare in questa serie Quindi ragazzi innanzitutto partiamo solamente con un veicolo, abbiamo il Dodge Ram 1500 che ci sarà molto molto utile per questo lavoro qua Aspettate che c'è la musica direi di togliere la musica e appunto la prima cosa che dobbiamo fare ci siamo appena spostati qua nella countryside di Los Santos E la prima cosa appunto è acquistare un terreno quindi dobbiamo cercare un terreno da acquistare abbiamo venduto tutto quello che avevamo in città Abbiamo messo dei soldi da parte e adesso siamo a Grapeseed vedete dove ci sono i migliori campi di tutto il paese, di tutta la nazione Quindi se apriamo la mappa come vedete ci sono tre puntini, uno sono i campi in vendita quindi come vedete c'è un campo in vendita qua ad esempio Questo sarebbe la stazione di scarico e c'è il punto in cui dovremo vendere probabilmente i prodotti che poi verranno inviati tramite camion ovviamente a tutta la città, tutto il paese eccetera eccetera Questo dovrebbe essere il negozio in cui vendono i semi e altre cose ancora quindi molto molto interessante La prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è andare a comprare un terreno quindi io direi che mettiamo la freccia se questo mi dà la precedenza però ok Quindi eccoci qua allora vediamo ragazzi che campo è disponibile probabilmente uno non coltivato quindi ci sarà un po' di lavoro da fare per poter coltivare qualcosa Ok mi sa che si trova qua l'annuncio diceva qui O'Neill's Ranch quindi nel ranch degli O'Neill vediamo un attimo ok Ok sembra che questo sia il campo disponibile all'acquisto al momento quindi io direi che adesso togliamoci da qua comunque avremo come vicini vedete loro E ci sono anche degli animali qua ovviamente noi per ora non centriamo niente con gli animali ma magari più avanti possiamo estenderci oltre alla coltivazione Ok quindi andiamo a vedere un attimo com'è la situazione andiamo a vedere se è tutto ok tutto a posto Come vedete ci sono un bel po' di macchinari qua poi ci sono delle persone là che non so che cosa stanno facendo ma sembra una riunione di famiglia Vicino a un rimorchio con chihuahua probabilmente stanno mangiando degli hot dog che ore sono magari è ora di pranzo Infatti è mezzogiorno e dodici per quello infatti sono lì a fare probabilmente pausa Fatemi andare a vedere fatemi andare a conoscere i nuovi vicini un attimo perché sono veramente curioso di vedere Siete voi i lavoratori dei campi o siete vicini siete cosa siete voi ok non lo so perfetto Comunque io ho intenzione di comprare probabilmente il campo qua attorno si dovrebbero essere i lavoratori in pausa pranzo Come vedete ci sono anche dei lavoratori per i campi che è una cosa molto molto utile Questo se è il campo in vendita quello che ho visto sull'annuncio non è troppo piccolo non è neanche così grande Però non è troppo piccolo ci probabilmente ci permetterà di fare tutto ciò che ci serve fare Quindi sicuramente qua riusciamo a mettere un bel po' di piante e farci un bel gruzzoletto Quindi ok premi per comprare questo campo il costo è di 150.000 dollari per un campo completamente incoltivato di terra E a terra battuta però sì comunque vedo che ci sono dei rametti delle cose che non mi piacciono molto E ovviamente non basta comprare il campo perché poi dovremo comprare tutto il resto Quindi semi e macchinari dovrebbero essere inclusi nel campo e poi ovviamente i concimi e tutto il resto Quindi direi di comprare questo campo ragazzi Ok campo acquistato come vedete 150.000 dollari e ci hanno aggiunto anche un trattore Un rimorchio per i semi e un rimorchio non ne ho idea che come diamo un rastrello non lo so comunque vabbè quello insomma Però in ogni caso ragazzi allora vediamo cosa fare adesso non ne ho idea però come vedete sono comparsi dei puntini bianchi sul campo E penso che dovremo prendere uno di questi attrezzi e portarlo sul campo per preparare il terreno alla semina immagino Quindi proviamo a prendere questo che dovrebbe essere ok la cosa giusta perfetto semi dice canola Ad aspettate un attimo usciamo vediamo che cosa ci dice qua al punto rosso perché non ne ho idea Premi per ripristinare il tuo equipaggiamento oppure premi per il tutorial Premiamo per il tutorial quindi attacca il rimorchio con i rastrelli appunto al trattore e vai sopra i puntini bianchi per coltivare e seminare il campo Mi sa che quando i semi sono pronti dobbiamo usare l'altro per raccogliere non ne ho la più palida idea Ho agganciato il rimorchio giusto adesso saliamo di sopra vediamo un attimo il lavoro che dobbiamo fare Attenzione perché dobbiamo andare piano piano vorrei fare tutto in cerchio magari quindi iniziamo da qua Perfetto facciamo con un movimento circolare funziona bene direi che funziona bene un po' un po' ballerino però dovrebbe funzionare bene Ok per ora stiamo andando decisamente meglio del previsto più di quello che mi aspettavo Oh ne ho perso uno cavolo ne ho saltato uno ma penso che sia uguale ok ecco fatto Sta andando tutto bene 91% abbiamo ovviamente la percentuale di quelli che facciamo immagino Ne ho perso un altro ma tanto lo recupererò dopo tanto non è un problema è uguale non fa niente Il campo è tutto nostro quindi possiamo fare tutto quello che ci pare piace tutto ciò che vogliamo E nessuno ci dà fastidio come vedete i lavoratori sono in pausa pranzo quindi abbiamo il tempo tranquillamente di lavorare sul campo Senza disturbare nessuno quindi ok ne rimangono pochi 85% siamo già messi decisamente bene Vediamo un attimo ok ne sto perdendo più di uno perché è difficile fare le curve con questo Si perdono un bel po' di pezzi qua Ok beh la fine la sto facendo veramente malissimo ma pazienza è perché stiamo andando più veloci del previsto Quindi le stiamo facendo senza un'idea generale ma è uguale perché tanto non cambia niente se lo facciamo dritto storto immagino Poi ok 78% gli ultimi 3 e poi abbiamo finito vediamo se riusciamo a prendere tutti e 3 in una volta sola 1 sì 2 sì e 3 no Cavolo avete visto l'ho sfiorato malissimo proprio di per pochissimo l'ho sfiorato Comunque abbiamo fatto un campo veramente terribile ma pazienza ecco fatto 74% Adesso che cosa dobbiamo fare non ne ho la più palida idea ma credo che dobbiamo andare a prendere i semi Perché effettivamente se ci pensate ah ci sono già i lavoratori che lavorano eh è finita la pausa pranzo mi sa Ok stacchiamo qua vediamo di prendere attenzione perché non sono ancora mo' ok non l'ho staccato bene Mi sa che non l'ho staccato correttamente vediamo di staccarlo togliendolo un po' di mezzo perfetto si giusto Ah prendiamo l'altro rimorchio mi sa che dobbiamo andare al mercato dei semi qua vicino a prenderci i semi per coltivare il campo Perché come vedete adesso non c'è niente dobbiamo scegliere che cosa prendere quindi vediamo Uh attenzione ah quindi vediamo quanto manca dovrebbero essere ah e tanto è vicinissimo mi sa che sono a 600 metri di distanza da lì Quindi non è un problema c'è la polizia ma non è per noi ma è per noi ah no non è per noi è di un altro camioncino che un pick up Va andate prendetelo ah ah io ormai non lavoro più nel crimine sono un cittadino onesto che coltiva i campi e che vuole mettere su un'aziendina Magari la Philips Trevor Enterprises grandissima distributrice e coltivatrice di prodotti Comunque eccoci qua ragazzi questo sembra il posto in cui dobbiamo andare a comprare la roba Che siano pesticidi semi o qua cosa c'è scritto fertilizzanti vedete tutto quello che ci serve lo possiamo prendere qua Union grain quindi vediamo un attimo se il signore si toglie dalle scale posso per favore passare La ringrazio e adesso vediamo un attimo allora premi per comprare i semi o altre cose scusi eh Ah quindi oh che cos'è perché perché scusi ma ma che scusi 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 cosa no 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 ma che cavolo volete Sto solamente comprando dei semi state tranquilli signori no 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 ehi 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 Non sono qua in cerca di guai che sono appena andato via dai guai non cerco guai non cerco guai ho detto perché mi state inseguendo Voglio sono un cittadino onesto che compra e paga e mangia e no via via sono un cittadino onesto non ti voglio passare sopra col trattore Che magari ti posso anche uccidere per sbaglio statene lontano fatevi gli affari vostri io guardate mi sto facendo odiare da tutti Addirittura quel contadino lì mi ha fatto una foto e mi sa che hanno desistito Sì mi sa che hanno smesso ok perfetto bene ah cavolo è dura fare la vita da contadino comunque in ogni caso eccoci qua ragazzi Stavo dicendo prima che mi interrompessero che qua c'è il negozio per comprare i semi e grano o non so che cosa diamine sia Quindi possiamo scegliere quattro tipi apparentemente ora per ora di semi da piantare Allora ci dice che quello che abbiamo già nel campo adesso è canola che devo controllare che cosa è canola perché non ne ho la più pallida idea ragazzi Ok canola è la colza e costa 4000 dollari cresce velocemente ma ha poco valore Poi abbiamo il cavolo abbiamo la zucca e abbiamo l'erba quindi proprio marijuana Possiamo scegliere quale di queste quattro a piantare ovviamente dipenderà vedete c'è scritto crescita o valore Il crescita veloce per il primo ma ha poco valore il cavolo ha una crescita normale ma ha poco valore La zucca ha una crescita lenta però il valore è medio e l'erba naturalmente ha una crescita lenta ma il valore è molto alto Però c'è la possibilità che arrivi la polizia ed essendo illegale non è proprio il massimo Quindi io direi che per prima cosa come prima piantagione come prima cosa che dobbiamo fare Direi che possiamo prendere tranquillamente la colza così almeno siamo sicuri E quello che c'è già sul campo perché c'è scritto attenzione selezionare un seme diverso resetterà completamente quello che abbiamo fatto Quindi direi di scegliere per ora la colza e poi magari le altre le lasciamo per più avanti Quando abbiamo più campi e cose così se succederà oppure cambieremo magari il nostro modo di fare le cose E sceglieremo un altro vorrei fare la zucca prendere la zucca come scelta principale Comunque ecco fatto 4000 dollari adesso abbiamo ripristinato e aumentato Adesso non ce l'hai non fai più il cattivo eh adesso che il tuo amico si è ferito Ecco e allora vattene un po' via Cosa vuoi ancora non ne ho idea Ok quindi si è ripristinato? Ehm no non ci sono semi qua dietro non ne ho idea forse non lo so Forse si tratta di attenzione che sto prendendo il palo perché non sono ancora molto bravo A gestire il trattore e le manovre soprattutto in retromarcia con i con i rimorchi Infatti devo fare la cosa opposta ok ok perfetto Ehm quindi come vedete c'è scritto percentuale di quanto è pieno ed è 0% Quindi questa cosa non lo so 0% si vede che non ha ripristinato il rimorchio ma qualcos'altro probabilmente Perché se no non si spiega non so che cosa ho acquistato Quindi torniamo un attimo al campo vediamo la situazione Comunque ci dice che abbiamo anche poca benzina rimasta ormai quindi è un problema È un bel problema perché il nostro trattore effettivamente beve un po' Dobbiamo andare a far benzina se dobbiamo ancora girare con il trattore Però vediamo perché non ne sono troppo sicuro di quello che dobbiamo fare sinceramente adesso Ok ci siamo al nostro campo Attenzione che c'è una mucca che sta attraversando la strada e non vorrei che non vorrei metterla sotto Ok perfetto Allora giriamoci qua un attimo Attenzione al rimorchio che è sempre un po' un problema Eccoci qua Uh ok Come vedete ci sono già delle piantagioni quindi abbiamo ripristinato tutto quanto Abbiamo piantato queste piantine vedete di colza E dobbiamo semplicemente aspettare che crescano Quindi hanno una crescita molto veloce il valore molto basso Però comunque niente male direi niente male ragazzi Guardate qua che storia Guardate qua che figata le nostre primissime piantine Bello Molto molto bello Quindi con queste poi inizieremo il nostro impero E sarà favoloso Bellissimo Ahm Guardate che figo troppo troppo bello Ok quindi a questo punto non ci resta altro che aspettare Non abbiamo da fare nient'altro Quindi io direi che adesso Dato che abbiamo poca benzina Lasciamo qua il rimorchio che ancora non so a che cosa serva Ma penso che questo rimorchio qua grande serva per raccogliere Quindi è una cosa un po' strana ma probabilmente serve per quello E ok attenzione che abbiamo fatto un salto pazzesco per arrivare là Ah voglio vedere un attimo in giro Perché abbiamo appena acquistato un terreno qua Non so ancora chi lo sappia A parte ovviamente il padrone Ma come vedete ci sono delle coltivazioni alternative qua attorno Decisamente ottime Abbiamo gli animali naturalmente come vi ho già detto Ma abbiamo anche mele Probabilmente pere Vedete di qua E anche delle coltivazioni più complicate Come vedete questi Attenzione che c'è una persona e anche una mucca Ahm Questi hanno piantato così a strisce Che è una cosa decisamente Ahm Ancora troppo complicata per noi Non abbiamo idea di come si faccia Comunque il mio trattore sta decisamente soffrendo E non vorrei rimanere senza benzina Perché poi sarebbe un bel problema Piuttosto grave Mi sa che Non so se ci arriviamo 700 metri mi sa che così non li fa Mi sa che si ferma lo stop Oh caspita Ok Ce la dobbiamo fare a piedi Mi sa Non so che fine abbia fatto il mio dodge ram Però mi servirebbe in questo momento Decisamente si Mi sa che lo andiamo a prendere Perché Attenzione Buttiamolo qua nel fosso Il trattore che così sta buono qua Ah diamine Ok Dobbiamo stare un po' più attenti con la benzina E come la gestiamo Torniamo a piedi un attimo Prendiamo il dodge ram Direi che ci vediamo una volta che l'abbiamo preso così Tagliamo corto perché ce la dobbiamo fare a piedi E niente ragazzi Che cavolo di problema Uffa Ok ragazzi Preso Bene Adesso torniamo dove eravamo E andiamo a prendere una tannica di benzina Per fare il pieno al trattore Perché sicuramente è quello che ci serve Ok Andiamo a sinistra La freccia a sinistra messa Andiamo Vediamo se il trattore è ancora lì Ma penso di sì Nessuno me l'ha rubato Infatti nessuno si prenderebbe mai un trattore Eccolo qua Andiamo un attimo alla pompa di benzina Dovrebbe essere anche questa vicino Quindi come avete visto Neanche servirebbe tecnicamente il pick up Se non che risparmi benzina Perché il trattore veramente ne beve troppa Ma perché per girare qua attorno Come vedete sono tutte distanze minime Guardate qua che cosa hanno coltivato Incredibile Con le serre e tutto quanto Vorrei un giorno arrivare a fare ciò Magari con più braccianti e più persone Anche degli animali che vagano in giro Bello bello Ovviamente anche noi dobbiamo stare attenti Agli animali e ai pesticidi Però cavolo Qua hanno costruito qualcosa di interessantissimo Ok Comunque Smettiamo di sognare Andiamo a prenderci una tanica Che se no rimane lì Il trattore non è la cosa migliore di tutte Quindi Vedete che c'è una tanica giusto disponibile qua fuori Perfetto Quindi L'unica cosa che dobbiamo fare ragazzi Adesso è aspettare Ovviamente dobbiamo curarci del Perfetto Tanica presa Dobbiamo curarci del campo Mano a mano Dobbiamo sistemare la terra Togliere le erbacce Tutto quanto Irrigare il campo Perché naturalmente Non cresce da sola così Ma dobbiamo aiutare un attimo Il terreno A produrre di più E poi Possiamo iniziare a vedere Le nostre prime Cavolo Vendite Come vedete Pieno di animali Qua forse suonare il claxon Non è stata la cosa migliore Però pazienza Ok Guardate che bellissime coltivazioni Uh addirittura Qua c'è un rimorchio Che cos'è Una pompa Sembra Probabilmente è per gli incendi Se dovesse incendiarsi un campo Almeno riescono a spegnerlo velocemente Senza troppi problemi Guardate che figata E abbiamo a disposizione noi Un bel po' di cosa Adesso vi faccio vedere Ad esempio Abbiamo anche due altri attrezzi Anzi tre altri attrezzi Uno è una mietitrebbia L'altro dovrebbe essere Uno strumento per girare la terra Anzi due dovrebbero essercene Di strumenti così Vediamo di parcheggiare il dodge Dove non dia fastidio Tipo qua Poi dovremo prendere più avanti Probabilmente Intanto Prendiamo la tanica Perfetto E vediamo di fare un po' di benzina A questo trattore Almeno per aiutare un attimo La situazione Ok Come vedete È bello bello fermo Abbiamo 100 litri Ci dovrebbero bassare Per il trattore 100 litri Tecnicamente Ok finito Perfetto Quindi come vedete Fare questo lavoro È un lavoro a tempo Piede Cosa neanche metà Un terzo del serbatoio Con 100 litri Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherziamo Ma non ci voglio credere Cavolo Ma quanto mi costa Mi costa di più di Vabbè Speriamo che Almeno con le zucche Ci si faccia un po' di soldi Ovviamente come vi ho già detto Iniziamo bassi E poi scaliamo più avanti Comunque guardate Che figo qua Hanno fatto dei campi Veramente spaziali Che per ora Sono decisamente fuori Dalle nostre competenze Quindi non vorrei neanche Entrare in tutto quello Perché davvero Ci vuole pazienza ragazzi Come vedete Qua ci sono altri rimorchi ancora Ma io vi voglio far vedere Gli altri tre macchinari Che abbiamo a disposizione Che sono lì sul campo Ci vuole del tempo ragazzi Penso che probabilmente Per il prossimo episodio Avremo qualcosa di più concreto Per ora Non abbiamo assolutamente Niente qua E Oh cavolo Stavo per bloccare un trattore Ok Guardate qua Che figata Eccoci qua Ora Non è il mio campo questo Però lascio comunque il trattore lì Tanto i lavoratori sono andati Naturalmente a casa Guardate La mia titrebbia Che figata Pazzesca Ora Non so benissimo A quanto ci serva Perché Beh Non è quello che stiamo facendo E Però guardate che bello Si muove Tutto ci sarà molto utile Più avanti Probabilmente con altri tipi di Coltivazioni Quindi possiamo alzare O abbassare Vedete Il rullo davanti O il mietitore davanti Non so se rullo o mietitore E appunto possiamo fare Un bel po' di cose Adesso non serve Perché in questo campo Non c'è nulla da prendere Nulla da mietitrebiare Però Un attimo Lasciamolo di lato Ok Che si è fatto anche buio Quindi dovrei in realtà Andare a dormire Ma pazienza Un attimo che Vi faccio vedere anche l'altro Guardate Questo non so se ci servirà mai Perché per un certo tipo di lavori Come vedete È abbastanza un macchinario Piuttosto grande Serve per girare la terra Per sistemarla Vedete possiamo alzare O abbassare questa Questa parte qua E renderà tutto più semplice Che a mano Naturalmente Quindi molto molto bello Guardate come si alza Tutto il veicolo Quando noi mettiamo giù Il la pala Che figata Comunque scendiamo Servirà probabilmente Agli altri Di questo campo qua Mi sa che hanno dei lavori In programma da fare Non so come si spengono i macchinari Quindi li lasciamo accesi Perché non ho trovato Il modo di spegnerli Però domani mattina Vabbè Lo troveranno loro Lo vedranno loro Quindi Io direi che ci possiamo Salutare Andiamo a dormire ragazzi Ci vediamo domani mattina Lasciamo qua tutto quanto Torniamo al nostro Dodger M E chissà Magari sono cresciute già Le piantine Non lo so Andremo a dare un'occhiata Domani Direi sì Buonanotte ragazzi A domani Buongiorno ragazzi Eccoci qua Ci siamo svegliati Pochissimo tempo fa Sono passate delle ore Devo ammettere Quindi potrebbe Essere cambiato qualcosa Sono passate Beh penso Un 6 ore Forse Più o meno Spero Perché se no Ho dormito davvero troppo poco Non lo so Andiamo a vedere se c'è qualche novità Anche se Penso che ci voglia più tempo Perché così è davvero troppo poco Non so Sono cresciuti Forse un po' Non ne ho idea Però ci sono dei lavoratori Ragazzi Vedete Sottopagati lì Che stanno facendo Beh sistemando le erbacce Tutto quanto Guardate che figata C'è già gente che ci lavora E non so Mi sembrano leggermente più alti Però non cose incredibili Ovviamente ci vuole del tempo Quindi per oggi Non possiamo fare nient'altro Però la prossima volta ragazzi La prossima settimana Probabilmente saranno già belli cresciuti E potremmo Prenderne i frutti E andarli poi a vendere Da qualche parte Quindi Non lavoro a tempo pieno È vero Soprattutto per loro Che guardate Stanno lavorando la terra Scusate È il mio campo Io posso fare quello che voglio Posso anche Io mi obbligo a chiamare La polizia Cosa L'hanno detto insieme Ma cosa Guardate Lo stanno dicendo insieme Stanno chiamando la polizia Ma io non Guarda Ok 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 Smettetela di fare la stessa cosa Contemporaneamente Signore Ci salutiamo ragazzi Quindi grazie a tutti Della visione Il prossimo episodio Sarà la prossima settimana Ma per ora Lasciate un like Se volete un nuovo episodio Di GTA E anche se questo video Vi è piaciuto In descrizione C'è il link per Instagram Potete seguirmi lì Per sapere gli eventi In cui sarò in giro Per l'Italia Per il libro Che sapete che è uscito Il mio libro Su GTA 5 Quindi se vi piace GTA Dovete assolutamente leggerlo Instagram In cui comunicherò Tutto quanto Quindi mi raccomando Seguitemi lì Inoltre però Se siete nuovi sul canale Del primo video che vedete Iscrivetevi Mi raccomando Così ci saranno Nuovi episodi Sempre su questa mod Grazie a tutti Arrivederci